Allora, la musica è finita, gli amici sono avanti che è in tutta la serata. Vogliate perdonarmi ma sono costretto ad andarmene. È stato un vero piacere, grazie. Ma come? Ci abbandona? Non si fa mica così? Sei un orso, sei uguale a mio padre. Non mi fa restare fuori fino a tardi, non mi fa sentire i dischi, niente. Non vuole che stai fuori fino a tardi? No, sei il cavolo di brutto. Una volta ero a un parte che finì alle tre di notte e lui non chiamò la polizia. Ah sì? No, dico, te l'immagini, ha mobilitato tutta la polizia della contea. A proposito, dov'è casa tua, Chero? Su a Ramona, perché? Mio padre dice di portarla a casa. Perché non lasci che prima finisca il suo drink? Adesso, cazzone! Si può sapere perché devi parlarmi così? A casa sua. Forza, andiamo. No, vieni a casa. No, no, ma non c'è vento lontanamente, ma per carità. Adesso sto bevendo, sto fumando, mi vuoi già portare a casa. Salute. Aspetta qualcuno. Non può restare se non è accompagnato. Non se ne vada, la prego. Resti un altro po'. Scegli bene. Non vada via. Dimmi quello che vuoi, però io sto... Io sono stanco, capito? Io sto tanto bene qui e qui rimango. Sto fumando, sto bevendo. Anzi, se vuoi favorire insieme con me, non faccio più meno. Vuoi un goccio? Guarda, Marina, sono troppo arrabbiato. Vuoi un goccio? Sono troppo arrabbiato. Ma bevi che ti calma tutto. Ascolta. Avanti, chiediamo via. No, ma dà cancuno, Marco. Forza. Non voglio andarmene, Marco. Canto, amore. Oh, aspetti. Che cazzo... Eh, che cazzo volevo? Fatemi cazzo. Fatemi. Ma tu che cazzo vuoi, gamba di legno? Niente, amico, tutto a posto. Che cazzo vuoi? Sono un po' rognoso. Non voglio niente, cazzo, non voglio niente. Ma fa culo, la cazzo. Fa culo. Fa culo, fa culo. Mi abbasso tutti, mi abbasso tutti. Effettivamente, tutti siamo molto stanchi. È molto tardi e vogliamo andarcene. È vero, signori? Eh, sì, 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 sì. E allora che cosa aspettiamo? Presto, aprite la porta. Qui c'è qualcosa che va male. Chissà cos'è. Salve. Ma dove siete nascosti? Stanza piena di persone sparite. Ragazzi! Ragazzi! Sperti qua, andiamo! Siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi!